ciao a tutti e bentornati in questo video vi spiego come realizzare la maglia della preview iniziamo dai materiali un uncinetto numero 5 una forbice e un ago che ci servirà per unire i pannelli perché questa maglia composta da due pannelli uniti tra loro sui lati a livello di filato come potete vedere quello che ho già qui è il donny color mi è piaciuto veramente tantissimo è molto morbido a 100 per cento cotone mi piaceva questa versione sfumata però ci sono dei bellissimi colori anche in tinta unita o altre sfumature vi lascio tutte le specifiche nell'info box iniziamo subito con le nostre catenelle questa maglia si lavora dall'alto in basso quindi lavoreremo inizialmente 161 catenelle dopo dieci giri andremo poi a diminuire lateralmente facendo due diminuzioni all'inizio e due diminuzioni alla fine di ogni giro man mano vi mostrerò poi il tutto ricorda molto per chi ha già visto il video il cappuccio che avevo fatto che partiva dal lato lungo e poi si andava a stringere venivano effettuate poi le cuciture carichiamo subito 161 catenelle caricate tutte 161 le nostre catenelle carichiamo due catenelle rientriamo nel 161 esimo punto che abbiamo fatto ed ora lavoreremo in ogni catenella di base una maglia alta fino ad arrivare alla fine del giro con 161 maglie alte terminato il primo giro in cui abbiamo lavorato 161 maglie alte facciamo due catenelle voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare una maglia alta in ogni maglia sottostante che troviamo partendo proprio dalla primissima che abbiamo qui quindi maglia alta ripetiamo semplicemente una maglia alta su maglia alta fino alla fine del giro lo facciamo fino ad ottenere in totale dieci giri quindi dieci giri per cento 61 maglie alte dopodiché inizieremo a lavorare le diminuzioni terminati i dieci giri di maglie alte iniziamo a fare le diminuzioni e faremo per 22 giri doppia diminuzione all'inizio e alla fine del giro quindi faccio sempre le due catenelle per alzare il lavoro inizio come la solita lavorazione della maglia alta quindi entro nel primo punto ma non lo chiudo ricarico il filo entro nel nella seconda maglia tiro fuori il filo chiudo le prime due asole e ora chiudo queste tre tutte e tre insieme questa è la prima diminuzione faccio la stessa cosa una seconda volta così avrò due diminuzioni all'inizio del giro ecco qua avevo quattro maglie sotto sopra noi due d'ora in poi lavoro tutta maglia alta fino arrivare alla fine del giro quando avrò quattro maglie disponibili a chiusura del giro ripetiamo quello che abbiamo fatto all'inizio ovvero due diminuzioni consecutive questa è la prima e questa è la seconda ripeteremo questa lavorazione per 22 giri totali questo era il primo quindi per 22 giri faremo queste diminuzioni all'inizio e alla fine del giro in questo modo passeremo da 161 maglie iniziali a 73 per ricominciare il giro successivo facciamo la stessa cosa le due catenelle per alzare il lavoro voltiamo e facciamo la prima diminuzione in questo caso prendiamo i due punti ricavati delle diminuzioni sottostanti ed era la prima la seconda nelle due maglie successive che troviamo quindi lavoriamo sempre le diminuzioni scusate sulle quattro maglie di inizio del giro e sulle quattro maglie di fine giro terminati i nostri giri di diminuzione ora andiamo semplicemente a lavorare una maglia alta su ogni punto disponibile sottostante quindi alla fine del nostro ventiduesimo giro di diminuzione il trentaduesimo in totale facciamo le nostre due catenelle voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia alta su ogni punto che incontriamo lavorate i nostri dieci giri per le maniche nelle nostre 22 diminuzioni e gli ultimi 15 giri per il corpo realizziamo un secondo pannello identico dopodiché li andiamo a sovrapporre purtroppo non riesco ad inquadrarlo tutto ma li andiamo a sovrapporre in questo modo e procediamo cucendoli lateralmente per lo scollo invece dobbiamo un po' valutare se lo vogliamo largo quindi che cade un po' sulle spalle oppure un po' più stretto quindi a piacimento poi facciamo delle prove mettendo dei marca punto e indossando la maglia quindi con se si vuole uno scollo più ampio andremo ad esempio a cucire a filo diciamo del corpo quindi possiamo far così se lo vogliamo un po' più stretto andremo poi a stringere terminate le cuciture per la parte delle spalle ho unito due pannelli cucendoli per 55 maglie da un lato e 55 dall'altro andiamo a riprendere il nostro uncinetto ed il nostro filato procederemo ora rifinendo lo scollo lavorando appunto gambero puntiamo l'uncinetto in una maglia qualsiasi del nostro bordo e andiamo a tirare fuori il nostro filato in questo modo cerchiamo di tenerlo ben saldo perché non è un punto ancorato in questo modo ed ora per il nostro punto gambero andiamo a puntare l'uncinetto nel punto che si trova prima di quello in cui abbiamo appena estratto il nostro filato come vedete questo era il filato che c'era sul nostro uncinetto e questo è quello appena estratto si incrociano leggermente e lavoriamo come se lavorassimo un punto una maglia bassa ora cercando di lavorare in modo molto morbido altrimenti si stringe troppo il collo puntiamo l'uncinetto nella maglia antecedente tiriamo fuori nuovamente abbiamo questa era era l'asola che si trovava già sul nostro uncinetto questa è quella appena estratta e andiamo a chiudere di nuovo puntiamo l'uncinetto nella maglia antecedente tiriamo fuori sono incrociate chiudiamo di nuovo andiamo nella maglia che troviamo subito prima tiriamo fuori e chiudiamo ripetiamo per tutto il giro terminata la rifinitura appunto gambero del collo andiamo a riprendere le maglie del corpo prendiamo il nostro filato col nostro uncinetto facciamo un nodino e andiamo a puntare l'uncinetto nella prima maglia del nostro nuovo giro blocchiamo il nostro filato facciamo le nostre solite due catenelle e la maglia alta nello stesso punto andiamo a lavorare una maglia alta in ogni maglia disponibile chiudendola in tondo terminato il nostro giro andiamo a chiudere una maglia bassissima nella prima maglia facciamo le nostre solite due catenelle e ora lavoreremo prendendo il punto da davanti e da dietro alternandoli in questo modo carichiamo sempre il nostro filo come per lavorare la classica maglia alta invece di entrare nel punto facciamo passare l'uncinetto dietro alla stanghetta in questo modo peschiamo il filo tiriamo fuori e lavoriamo la maglia alta per il punto successivo carichiamo sempre il nostro filo invece di far passare come abbiamo fatto prima il nostro uncinetto dietro alla stanghettina facciamo passare davanti quindi prendiamo da dietro facciamo passare davanti alla stanghettina prendiamo il filo facciamo passare e lavoriamo la maglia alta ve lo faccio rivedere carichiamo sempre il nostro filo facciamo passare l'uncinetto dietro la stanghettina e lavoriamo la maglia alta carichiamo il filo facciamo passare l'uncinetto davanti alla stanghettina tiriamo fuori il filo e lavoriamo la maglia alta proseguiamo in questo modo fino alla fine del giro quindi alternando il punto prendendolo una volta da facendo passare l'uncinetto davanti e una volta facendo passare l'uncinetto dietro alle stanghette terminato il nostro giro andiamo a tagliare il filo e lo facciamo passare attraverso l'ultimo maglia prendiamo il nostro ago facciamo passare la codina e andiamo a ricongiungerci nel primo punto nella prima maglia non tiriamo troppo e facciamo ripassare l'ago all'interno del punto dal quale abbiamo fatto passare il nostro filato alla fine in questo modo come potete vedere si crea una chiusura più lineare facciamo un nodino faccio sempre un paio di sicurezza e andiamo a nascondere la codina all'interno del lavoro scappata tagliamo e la nostra maglia è terminata chiaramente non ci sta tutta nell'inquadratura quindi vi lascio con una serie di fotografie che comunque trovate sui vari canali social se preferite facebook o instagram tanto le foto sono le stesse prima di lasciarci non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video alla prossima grazie grazie